Per l'Avezzano una vittoria che fa il paio con quella dell'andata, ma stavolta con un punteggio che sa più di tennis che di calcio. Finisce 6-1 per i Biancoverdi, un successo che a fine gara vedrà il presidente Pecorelli rampognare quelle persone che non si accontentano mai, forse neanche in questa circostanza. Ma sgomberiamo subito il campo per dire che il punteggio finale suona come una punizione sicuramente eccessiva per i Romani, che fino al 3-1 hanno sputato l'anima pur di non soccombere. La differenza l'hanno fatta ancora una volta i singoli, quei singoli che l'Avezzano può vantare e gli altri no. Ma veniamo alla cronaca della partita che vede il primo timido tentativo del Monterotondo al primo minuto con questo colpo di testa di Manca che mette a lato da buona posizione. La replica bianco-verde nel destro di Verna che dal limite sfiora la base del palo. Poi alla prima vera occasione l'Avezzano passa al termine di una azione tambureggiante che si sviluppa da destra a sinistra dove c'è Senesi che recupera e mette davanti alla porta dove lo scaltro De Silvestro anticipa l'incerto simionato e deposita in fondo al sacco. Il Monterotondo accusa, ma non demorde, al quindicesimo c'è questo diagonale di Milani che spedisce la sfera vicinissima al palo alla sinistra di Cultraro. I bianco-verdi non capiscono l'antifona e al ventitresimo arriva il pareggio. L'azione scaturisce da un calcio di punizione sulla tre quarti. Sul pallone che finisce in area i difensori dell'Avezzano non sono abbastanza svelti nel liberare e per Milani non è difficile mettere alle spalle dell'incolpevole Cultraro. Punta nel vivo, l'Avezzano accelera e passa di nuovo con Senesi al ventottesimo. Il via lo danno Verna e Roberti con uno scambio che vede il primo crossare teso dalla parte opposta dove c'è Senesi che quasi della linea di fondo trova lo spiraglio giusto per mettere di nuovo alle spalle di simionato. Passiamo al trentaduesimo, botta del numero quattro Gianni da oltre 35 metri e volo di Cultraro a smanacciare in calcio d'angolo. E tre minuti più tardi registriamo una girata alta di De Silvestro che di fatto va a chiudere la prima frazione. Nella ripresa il Monte Rotondo parte ventre a terra e costringe l'Avezzano sulla difensiva. Al terzo Calisto crossa dal fondo e la difesa bianco-verde suda freddo per una traiettoria che si rivela assai pericolosa. Però, come detto all'inizio, l'Avezzano può vantare individualità che altre squadre non possano permettersi e al tredicesimo le reti all'attivo diventano tre. Il merito è tutto di De Lorenzo che da 40 metri carica il sinistro e fa secco simionato con un bolide tanto forte quanto preciso. Palla sotto la traversa e partita che si mette decisamente in discesa. A questo punto il Monte Rotondo molla definitivamente e al ventunesimo arriva anche il poker. Senesi mette in azione Verna che si libera dell'avversario diretto e in area offre la palla al giovanissimo Machel che alza lo sguardo e sigla il 4-1 nel modo che abbiamo appena visto. Passano altri tre minuti e su azione di contropiede Onazi lancia Senesi sul filo del fuorigioco. Volata del numero 10 e destro la soterra che non lascia scampo a simionato. Per i laziali vi mostriamo una bella girata al volo di compagnone che si perde alta di poco. Il tutto prima dell'ultima rete che porta la firma del nuovo entrato a Bolò. Azionato da un incontenibile Verna, oggi sicuramente migliore in campo. Altro diagonale la soterra e il primo set può passare agli archivi. Unica nota stonata di questo pomeriggio l'esiguo numero di spettatori presenti. Una situazione che purtroppo non rappresenta una novità per lo stadio di Marsi. E in sala stampa il presidente Pecorelli non ha usato mezzi termini. Presidente Pecorelli, allora 6-1, difficile da commentare o troppo facile? No, non c'è niente di facile anche perché come avete visto fino al gol del 3-1 il Monte Rotondo è stato in partita. Io lo ripeto sempre e stavolta vorrei essere chiaro fino in fondo. Questo è un girone difficilissimo ed è un girone difficilissimo non per le 6-7 pretendenti che aspirano a vincere. È difficilissimo perché tutte le altre non sono squadre materasso. Anche il Monte Rotondo che comunque ha una condizione classifica diversa dalla nostra è una squadra che comunque gioca. Che comunque ha avuto la possibilità, probabilmente se avesse fatto il gol del pareggio sarebbe cambiato qualche cosa. Lo ripeto da sempre, ogni partita è una finale di champion per noi. È una gara difficilissima con tutte le difficoltà, tra l'altro del contorno. Perché questa è l'unica piazza, e scusate adesso mi inizio a levare qualche sassolino, che non mi sembra che negli ultimi anni avete partecipato a Champions League, a tornei internazionali e fatto chissà che tipo di campionati. Qui tutti quanti rompono i coglioni, sono tutti esperti di calcio, ci hanno tutti da dire. Noi abbiamo l'allenatore scarso, i giocatori scarsi, i giocatori che non si impegnano, quelli che vanno in discoteca, eccetera, eccetera. Stanno tutti i giorni sui social a rompere i coglioni. Il risultato è che poi, però, noi stiamo lì, indegnamente, o forse degnamente, però basta. Poi allo stadio, allo stadio non viene nessuno. E volete andare in Serie C? E come ci volete andare in Serie C? Con gli stati vuoti? E mo' basta, no? Io sono stato buono, tranquillo. Questa è una società che oggi è sana, una società che sta per pagare il sesto stipendio. Domani mattina verrà pagato il sesto stipendio. Non so quante società in Italia stanno in questa condizione. Paghiamo tutto e tutti in maniera lineare. Abbiamo un ambiente assolutamente serene, però poi basta. Abbiamo un ambiente assolutamente serene.